Si terrà il 15 di dicembre al Hotel Baia Flaminia di Pesaro e sarà presentato da qui presente Thomas Nobili che ci diletterà con la sua presenza. Durante la serata avremo diversi momenti, avremo un primo momento durante il quale ci saranno due ballerini professionisti che si esibiranno in un tango e in un waltzer. Dopodiché ci sarà una piccola premiazione della lotteria. L'evento si concluderà con il concerto del Sound Messengers che è un gruppo formato da Clarissa Vitti, Max Valentini, Paolo Sorci e Claudio Morosi che eseguiranno un concerto che si chiama Mina Revisit e che sostanzialmente ripercorrerà tutte le canzoni più importanti di Mina. Seguo il mondo del volontariato con il centro servizi per il volontariato, con il CSV, da tantissimi anni ed era un piacere per me mettere insieme le due cose, la mia esperienza come speaker, come presentatore e il mio ruolo di presidente provinciale. Invito a tutti a esserci, insomma, per farci gli auguri anche per sostenere lo Iopra ovviamente. Lo Iopra assiste i malati terminali, non solo terminali oncologici direi perché oggi per fortuna ci sono anche vie di salvezza e quindi noi li assistiamo sia nell'anno del protocollo ma continuiamo ad assisterli perché hanno bisogno. Sicuramente i mezzi sono sempre più scarsi e di conseguenza abbiamo bisogno di sostegno. Per il sostegno facciamo appunto queste feste ed altri eventi che si ripetono ogni anno. Contiamo sempre su quello che ci viene dato in queste occasioni, nella vendita degli alberelli che facciamo tutti gli anni e quindi viviamo un po' di sostegno da parte di tutti. Questa serata è una serata per raccogliere risorse, per permettere poi ai volontari di fare il loro lavoro. Ovviamente i volontari sono volontari, le risorse servono per tutte quelle attività che danno un po' di sollievo alle famiglie che sono colpite dalla malattia e purtroppo non sono poche.